Ehi! Dove sei? Non ti vedo! Aspetta un attimo... Eccolo! Interista col progetto 89 nei commenti! È tornato il leccaculo juventino con il Milan, perché tanto dirai che sono così le due squadre, no? A livello di tifo, e invece cosa ti vengo a dire? Che come durante l'anno, se c'era da evidenziare i pregi per le partite di Napoli e Inter in campionati in Europa, oggi lo faccio tranquillamente col Milan. E se sono stato ripetitivo in qualche video fa, e oggi mi ripeto nel dire certi concetti, come l'avevo fatto con Pulisic, oggi io, con il nuovo acquisto del Milan, che ne porterà ancora un altro dietro di sé, io non posso che non fare gli applausi a questo calciomercato, perché un mese fa, peste e corna, tifosi, opinione pubblica, stampa, e anche stessa dirigenza, tempestata di insulti. Maldini via! Tonali via! Ma un mese dopo, precisamente, che succede? Che cosa succede? Ve lo dico io! Provate a dirmi nei commenti dove finirà il prossimo anno il Milan in classifica. Certo, è ancora presto per parlare, e soprattutto non è il calciomercato a far vincere i campionati alle squadre, perché ovviamente il Milan non vedeva un mercato così attivo da quanto tempo? Ah, sì, da Fassone e Mirabelli con le cose formali, però le differenze vanno sottolineate, sono due mercati completamente diversi, anche solo per un fattore. Fassone e Mirabelli avevano come materia prima, e dove andavano a comprare principalmente, nella Serie A. Qui non ci vedo niente, praticamente, di giocatori reduci, sì, da Serie A, forse quelli meno importanti o meno blasonati, di questo elenco che andremo a fare. Però voglio vedere, voglio vedere qual è la sensazione di questo Milan che oggi, al 21 luglio, arriva più pronta delle altre che hanno ancora dei tanti nodi da sviscerare. Per la prossima stagione, l'unica che può arrivarci già con una base pronta sarebbe solo la Juventus, paradossalmente, se non vendesse nessun top. Perché sarebbe quella dell'anno scorso, solo con gli innesti di qualche giovane che veniva dai prestiti e che ritorna in prima squadra. Tipo con un mercato bloccato in entrata, ma solo in uscita, degli esuberi. Sarebbe la Juve la più pronta, perché l'Inter non ha ancora un portiere, non ha ancora un cambio di Lukaku. E parliamo di un Lazio che deve ancora sostituire Savic, chissà se perderà Immobile, e di un Napoli che deve ancora sostituire Kim. Tutto questo, comunque, ragazzi, iniziando, puoi analizzare il perché. Sono comunque molto pronto a fare i complimenti al Milan con coraggio, perché se li merita. Vi ricordo che queste maglie qua, della nuova stagione, ma non solo, anche le maglie retro della vecchia stagione, tipo questa, meravigliosa. Guarda qui, Metclic 22, Vidal, proprio per ricordare chi altro ha vestito la maglia di Juventus e Inter, lo trovate in questo sito qua, fcmaglia.com. Ci sono delle promo ulteriori attive fino a fine mese, ma quella più importante è il codice sconto. AIRA, grande, R grande, Alex Cerandazzo, per non sbagliarvi, quindi AIRA, AIRAWay, 10% di sconto. AIRAWay, vai. Fila, muoviti, perché ci sono già le maglie della prossima stagione, quelle nuove, e poi aggiungeranno anche tutte le altre, tempo una settimana dal rilascio di quelle ufficiali. Detto questo, Milan, 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 Milan. Oh, Cafforra. Sembra un po' come la storia di Solbaken, quella classica cosa che se ti segna il giocatore, poi cominci già da lì ad avere quella grossa presa di informazione sul ragazzo, quella che ci ha avuto la Juventus, lo stesso Caffor, che ha citato Giuntoli, ma che poi ha portato Cafforra a sposare la casa del Milan. Come Solbaken, in che segna la Roma col Bodo, adesso Caffor, che è segnato con il Salisburgo e il Milan, che mandò al bar Calulu, gli è rimasto impresso. La cosa che va sottolineata di questo mercato è che è un mercato esotico, ma allo stesso tempo anche molto coraggioso, perché se il Milan è la stessa squadra di cui gli si va a ricordare, la bravura nell'aver preso degli apparenti sconosciuti, Calulu, Tomori, Ciao, Magnani, non era sconosciutissimo, ma comunque ancora non ha fermato, Leao, Tonali, Bennazera, averli presi e averli fatti diventare con tutti i rinnovi di contratto dei giocatori da prima squadra, fallendo in qualche operazione che poi ha costato la testa di Maldini, roba che se Maldini è stato datato così al Milan, al Chelsea dovrebbero prendere il lanciafiamme e distruggere tutta la sede, per chi ha portato certi nomi senza senso, errori con più milioni di margine di errore, mentre Maldini ha bruciato qualche milione in meno, oggi si va a riconoscere con i soldi di Tonali 70 milioni più bonus e con quello che non è stato investito sui apparenti 25 milioni circa di riscatto, 22 per Brahim Diaz, quindi un totale di 100 milioni, il Milan ha presi 5 di giocatori, o almeno 4, ma il quinto è prossimo. Ha preso Loftus, che sarebbe il ricambio di Tonali, per questo nuovo 4-3-3, perché Milan va in quella direzione. Ha preso Pulisic, che è il cambio di Brahim Diaz, altri 20 milioni. Ha preso Reinders, che diciamo che è il cambio di Baccaio Co, se diciamo che di Loftus è quello di Tonali, a livello numerico. 20 milioni. ingaggio di 4 e di 4 per Pulisic e Loftus, 1,6 per Reinders, Okafor, che come cambio mi viene da dire, non come importanza, come figura, come caratteristiche, ma è Ibra, perché è prima punta. 13-14 milioni, un regalo, per un ragazzo di 23 anni, tra i potenziali migliori, lì davanti in quel ruolo, e sono pronti ad affondare Cucuez, per 28 milioni, come ipotetico cambio di un Rebic. Possiamo dirlo? Proviamo a dire che è Rebic, perché è una figura più confinata sulla fascia, e a questo punto trovagli un cambio. Rebic e Orighi, a questo punto Orighi, lo mettiamo nel discorso collegato a Romero, preso a zero dalla Lazio, ma capisci che è soltanto lui, il ragazzo che arriva dalla Serie A, più sportiello per Tatarusano, che di fatto, chiamalo stupido, un secondo, che era il primo, diventato il primo dell'Atalanta per i difetti di Musso. Io questo lo chiamo mercato coraggioso, che merita una grande analisi, che non è detto che porti i risultati, perché c'è comunque da plasmare questi primi volti, e da vedere come si internava il campionato italiano. Non c'è Michevole, con Lumezzane, che tenga lì in America, poi il campionato è un altro. Ma quello che vi ho detto è che il Milan ha operato con coraggio nella zona dalla cintura in su, se vogliamo considerare i piedi, la difesa, che sono stati quelli che hanno mantenuto con ben salda a terra, con scarpe magnanna, diciamo, il Milan bello solido, ha cambiato il look lì davanti, perché il Milan ha perso le partite con una scarsa qualità offensiva, che hanno portato a non vincere tante gare, segnando anche poco o niente, per vedere gli avversari che ti facevano un gol in più. E in quelle partite lì era anche il Milan a subirne pochi di gol. Erano quelle partite dove paradossalmente il Milan è stato più da under che da over. Quelle partite dove sono incagliati i pareggi, come avevo detto nel video di Pulisic, con il Sassuolo, con la Cremonese, dove al massimo sono arrivati 0-1 gol. Anche le stesse partite in Champions League, dove il risultato del Milan, chiaramente, appena la vedevi in campo, era una squadra che aveva una grande organizzazione difensiva, un grande gruppo, tutti affiattati in un l'altro e adesso il Milan prova a cambiare e a rimodellarsi. Hai preso letteralmente un mediano box to box. Hai preso un Reinders, che è un giocatore che ha qualità offensiva di pensiero e di visione. Invece Tonali ti andrà sicuramente nell'immediato a rendere il Milan una squadra un pochino più forse esposta a subire gol. Ti prende Pulisic, un giocatore che era all'epoca uno dei migliori cambi del Chelsea. Uno dei migliori. A spaccare la partita a gara in corso. Tiene lo scacchiare del 4-3-3. Ad oggi me lo metteresti come riserva di Leao. E poi dire riserva in una squadra dove si veniva a criticare il fatto che Pioli si girasse, si voltasse, non vedesse niente dietro di sé. Adesso, già pensare che se gli arrivasse anche un Ciukwezze e girandosi che vede Messias è diverso da dire che sei obbligato a schierare sempre Messias e Salimacher. Che avevi un Righi, che avevi un Rebic, che non ti hanno aiutato. Hai fallito. Hanno fallito questi giocatori, non hanno rispettato le pretese che poi non ce le avevano mai a livello di nome. Questi giocatori allora provano con coraggio a rifare tutto. Tenendo i giocatori più importanti, sacrificandoli in questo caso mi viene da dire solo uno. Cioè, sarebbe stato clamoroso a questo punto se avessero fatto lo stesso mercato se fosse arrivata la stessa offerta per Magnani che comunque rimane uno dei migliori portieri in Europa. Quindi a questo punto a livello di sacrificio che cosa potevi perdere sacrificando meno della tua rosa? Teo, uno dei migliori terzini sinistri al mondo? No, in difesa perché dici siamo abbastanza bravi anche se ne perdiamo uno tra Tonorica, Lulu e Ciao? No! Hanno voluto cambiare lì perché è uno di quei giocatori che fa da equilibrio tra centrocampo e attacco tra difese e attacco tonali e allora no sacrificando lui che è un giocatore che dovrà ancora dimostrare tanto al Newcastle vediamo se prenderà la squadra sulle spalle per quello che è stato pagato nonché il giocatore italiano più caro della storia del calcio quindi è una cifra giustissima per la quale non ci sono obiezioni che Miano abbia fatto bene o male si assicurano la possibilità e la voglia di rendere il mio un'altra squadra una squadra che poi dovrà trovare gli ingranaggi dovrà trovare il modo in cui rendersi riuscirà a innescare la prima punta in cui Loftus riuscirà in questo campionato a essere bravo a andare avanti dietro a fare la doppia fase in cui Pulisic riuscirà magari non essendo un giocatore particolarmente fisico a incidere in questa Serie A lo stesso Caffor perché è un giocatore con caratteristiche diverse dalle punte che in Serie A di solito fanno la fortuna per le grosse per i tronconi ci provano è anche un formato anche più europeo poi Milan capirà una volta preso Ciucuez e chi dovrà dar via io vi ho detto Rebiciorighi perché sono fuori dalla tournée insomma sono stati esclusi dalla lista non sono parte del progetto è normale che il Milan ad oggi se lo metti in campo 4-2-3-1 o soprattutto 4-3-3 la squadra c'è in campo con Lumezzane qualcuno rimane fuori è normale che anche l'acquisto nuovo che non ho nominato del terzino che andrà aggregato alla primavera è un acquisto dove non va a tappare il buco che ci sarà se perderanno Ballotouré perché non sarà aggregato in prima squadra perché quello che è arrivato da Real Madrid Jimenez è un terzino a destra perché ci sono già Florenzi e Calabria a destra e perché serve il ricambio di Teo e loro vorrebbero andare su Cambiasso e Pellegrini attenzione non gli regaliamo i giocatori facciamogli ripagare questi giocatori importanti perché noi non siamo stati molto bravi nel passato a saper vendere i giocatori le cifre giuste per Ballotouré c'è il Fulham però immaginando un 4-3-3 togliendo la difesa c'è un Bennazer con un cambio di Krunic Bennazer giocatore che poi non avranno per tutta la prima parte del campionato quindi Krunic ma allo stesso tempo Loftus con ipotetico cambio direi Pobega Reyners dall'altra parte e forse uno rispolverato Adli magari un rivisitato dei Ketteler da quella zona di campo se non dovesse arrivare alla cessione lì davanti Giulio Cafor punte e a sinistra Leo Pulisic Rebic lo mettiamo proprio fuori come terza scelta Cucu Eze Romero Salema Care e Messias ecco qui mi aspetto che qualcuno tra Salema Care e Messias apparentemente non sul mercato potrebbero essere valutati in uscita perché poi se la sistemi in un altro modo col 4-3-1 hai soluzioni diverse ok ti tornano un pochino più i discorsi vedrà cosa fare il Milan con Adli con qualche giocatore che non ha brillato particolarmente ma oggi il coraggio lo si premia è quasi un mercato fatto da un ragazzino che si mette lì su FIFA a monitorare i vari giocatori brillanti o che servono nel ruolo giusto tra l'altro l'investimento più caro non a caso il Milan a livello di cartellino lo farebbe proprio con Ciucu Eze che si prospetta la cifra sui 30 milioni all'incirca mentre gli altri sono stati pagati 20 magari un pochino troppo Reinders ma comunque Loftus e Pulisic prese una cifra giustissima perché hanno l'età anche per avere un valore di mercato stabilizzato su questi milioni poche possibilità di errori i giocatori hanno già fatto vedere Loftus nel loro momento massimo di poter valere più di questi 20 milioni a 26 anni può fare ancora bene Pulisic lo stesso è un giocatore che va saputo capire perché è una grandissima gemma del nostro campionato e Okafor scelta coraggiosa scelta particolare per un Milan che ha già scelto la figura dell'extracomunitario da prendere in questo caso Ciucu Eze scartando i vari taremi e nel caso non da Juma che è andato comunque all'Everton ma è normale in un mercato in cui si fanno fatti mila accostamenti lo stesso addirittura Adama è stato accostato ci sono dei giocatori che poi si possono scartare scegliere o valutare Samarzic Morata Scamacca io credo che un milanista a cui gli veniva proposto Scamacca Morata Taremi piace l'esoticità di Okafor perché questo è come caratteristiche come giocatore particolare e secondo me giusto nel contesto Milan sempre sui giovani bella Scegliere Grazie a tutti.